Il bisogno calorico di un uomo in un giorno è di 2000 calorie Io proverò a mangiarne 10.000, ci riuscirò Alle 19 iniziamo con mezzo chilo di cannolo Alle 19.49 continuiamo con un panino col pullet pork E 20.24 continuiamo con un corn dog Ultimo morso di corn dog e andiamo avanti Alle 21.43 kebab di angus da mezzo chilo Chiudiamo la notte a l'uno e un quarto con un cono cannolo pieno di gelato 11.35 brioche col gelato da mezzo chilo Ultimo morso di brioche e andiamo avanti Alle 12.48 pizza fritta da mezzo metro 15.24 e proseguiamo con delle ciambelle pazzesche Ultimo pasto alle 20.40 parino con la porchetta e io adesso me ne vado in ospedale Let's ride Let's ride